Giorgio Befani, tu sei uno degli ultimi acquisti della Civita Vecchia, sei arrivato da qualche settimana, intatto come ti trovi in questo gruppo? Questo gruppo molto bene, siamo un gruppo molto affiatato, anche i più grandi che ci aiutano molto, i giovani, ci danno tutti da fare, ci diamo tutti da fare, come gruppo è fantastico, mi sono trovato molto bene. Tu sei uno dei giovani, ultimamente stai trovando sempre più spazio, senti la fiducia del mister? Sì, la sento, sono rientrato da un infortunio, quindi devo riprendere, devo ancora riprendere completamente la condizione, le ultime partite anche entrando, subentrando ho fatto abbastanza bene, il mister, sento la fiducia del mister, sarei pronto se dovessi rigiocare. Nelle ultime settimane il Civita Vecchia finalmente ha trovato oltre alle prestazioni anche i risultati, avete vinto due partite consecutive, una in campionato e una in Coppa, volete continuare nella partita con la Levant o c'è la possibilità di vincere ancora? Certo, certo c'è la possibilità, non dobbiamo tutto valutare l'avversario che comunque si trova in una posizione scopoda in classifica, ma ha fatto cinque gol alla Dispoli, sappiamo che squadra è la Dispoli in Coppa Italia, quindi dobbiamo tutto valutare, secondo le ultime prestazioni ma anche quelle precedenti, le ultime prestazioni siamo riusciti a trovare il gol e quelle precedenti no, ma ci sono sempre state, quindi ora se siamo riusciti a trovare la quadratura per insegnare a far male all'avversario si può fare benissimo. C'è una statistica particolare che riguarda il Civita Vecchia in questa stagione, cioè che in casa non avete ancora vinto, secondo te come mai è arrivata questa statistica, forse perché in trasferta vi lasciano più spazio? Ma questo sinceramente non lo so, in casa magari forse si può sentire più la pressione del pubblico, mentre fuori casa, che comunque il pubblico non manca mai, c'è sempre qualcuno che ci segue, fuori casa magari siamo un po' più liberi, dentro casa magari un po' questa pressione in più, ma ci rifaremo, non è problema questo. C'è qualcosa che vuoi promettere ai tifosi per la gara di domani? Ma prometto tanto prestazioni da parte di tutta la squadra, siamo sicuri che terremo con la testa giusta, con la mentalità giusta per portare a casa il risultato.